... Lei ha rifiutato un colloquio con la stampa italiana. Perché? La ritengo squalificata a parlare di cinema. In quanto nessuno di loro è un cosiddetto artista. Che differenza ha riscontrato tra la stampa italiana e quella estera? Nessuna o forse una. Quale? Con la stampa estera almeno si beve. Che in Italia, per disavventura tra i giornalisti e qualcuno di queste persone cittadini, mi rifiuto di parlare con la stampa italiana. Potrebbe indicarci un maestro? Sono un discepolo di me stesso. Non mi interessa dei miei film giri. Sei lo staglio? È una conferenza stampa dedicata a me. E salvo le eccezioni di cui ho parlato, con la stampa italiana in genere, non intendo parlare. No, sono pronto, con un colloquio con la stampa estera. Questo mio film è un capolavoro. Se le stampa estera vuole scontare il gioco di un po' l'italiano, allora, ecco io. Allora, ecco io. Allora, ecco io. Sei sempre preparata la stampa italiana a parlare di un gioco di un uomo? Lui sempre mi sarebbe andato con te, un po' ieri. Allora, ecco io. Allora. Allora, ecco io. Allora, ecco io. Non si è in grado di capire il gioco. Allora, ecco io. E' un piacere di parlare, ho fatto con la stampa italiana, vado le decisioni, sono due o tre, avremo fuori. Non vedi di toccato. E' un piacere di parlare, ho fatto con la stampa italiana, vado le decisioni, sono due o tre, avremo fuori. Non vedi di toccato.